Mi chiamo Paolo Gasparoli, sono professore associato di tecnologia dell'architettura politenica di Milano, insegno lì da una trentina d'anni e ho ritenuto molto importante diciamo questo mio percorso accademico a fianco dell'attività aziendale nella quale sono stato inserito nei primi anni 80 come prosecuzione ormai noi effettivamente alla quinta generazione, io e i miei fratelli è la quinta generazione, ora abbiamo introdotto la sesta generazione di un'azienda appunto che si occupa di restauri. Nel 2024 festeggiamo i 170 anni dalla fondazione quindi già i nostri avi diciamo si occupavano di decorazione, non di restauro ancora perché non era un'attività però diciamo di beni culturali ecco si occupavano di queste cose e diciamo l'azienda ha avuto una dimensione più di carattere industriale alla fine della guerra, del secondo dopoguerra quando mio papà l'ha presa in consegna. Naturalmente in quegli anni non ci si occupava tanto di restauro ma il tema era quello della ricostruzione, noi ci siamo sempre occupati comunque di trattamento di superfici come tuttora. Poi dagli anni 80 in poi ecco quando il tema della conservazione dell'inizia storica soprattutto le grandi superfici dell'inizia storica si sono poste diciamo come un mercato ampio ecco in quegli anni abbiamo appunto rideclinato l'attività riportandola appunto sulla sulla dimensione diciamo dell'artigianalità storica ecco della ripresa delle tecniche del passato. Naturalmente ecco appunto il collegamento con l'università aggiungendo o implementando diciamo tutta quella parte diciamo di innovazione più di carattere scientifico eccetera ma fondata ecco questo importante direi su una solida base di carattere teorico metodologico. Con Azi abbiamo sviluppato tutta una serie di attività anche di carattere comunicativo attraverso convegni cioè mi è capitato di essere coinvolto in diversi casi in varie parti d'Italia di come come relatore in convegni dove abbiamo parlato del tema del progetto di architettura sull'edilizia storica cioè di come è necessario ma anche difficile governare il processo di conservazione tra necessità appunto di mantenimento della consistenza materiale e trasformazione. Perché? Perché sappiamo che gli edifici in uso devono necessariamente trasformarsi cioè modificarsi per dare diciamo per dare risposta positiva alle esigenze dell'utenza diciamo che sono in continua evoluzione. Quindi c'è questo aspetto che è di carattere proprio concettuale ma poi c'è l'aspetto che abbiamo prima al quale prima abbiamo accennato è quello della manutenzione cioè tenere in buono stato un patrimonio culturale e forse soprattutto quello di proprietà privata perché il privato in questo caso è maggiormente motivato a fare interventi come si faceva un tempo interventi immediati rapidi proprio per evitare che si formino condizioni di degrado più più gravi e costose perché purtroppo quello che è perduto è perduto per sempre cioè il restauro non è in grado di riportare in vita quello che ormai c'è un affresco quando si è perduto si possiamo fare l'integrazione possiamo fare degli interventi diciamo di trattamento di lacuna però perché ormai l'autenticità l'identità dell'oggetto si è almeno parzialmente perduto quindi quello che noi perdiamo è perduto per sempre e quindi l'unico l'unico modo per conservare quello di prevenire di prevenire ora il tema del restauro o comunque della manutenzione ordinario straordinaria che sia sull'edificato storico presuppone un'analisi della valutazione dei rischi quindi noi diciamo che dal punto teorico il rischio è la combinazione tra pericolosità e vulnerabilità dove la pericolosità è la pericolosità ambientale soprattutto o antropica e la vulnerabilità inerisce le condizioni di conservazione dell'edificio naturalmente questi concetti potrebbero essere molto più articolati ma diciamo in sintesi il tema del rischio è questo cioè la combinazione tra pericolosità e vulnerabilità l'analisi della condizione di rischio dà quelle consapevolezze che consentono di fare interventi adeguati di conseguenza noi utilizziamo altri due concetti che io ritengo fondamentali che sono la valutazione della gravità dell'urgenza dove per gravità noi intendiamo la valutazione dell'estensione del degrado l'urgenza invece è la necessità di fare interventi urgenti appunto per evitare che il degrado si è ancora più si estenda ancora di più quindi non è detto che un intervento grave sia anche urgente però questi sono concetti fondamentali perché sono quelli che ispirano tutta l'attività di valutazione del rischio il tema della vulnerabilità dell'edificio è legato anche a questo, al suo stato di conservazione alle condizioni di urgenza prevalentemente possiamo fare questo esempio uno dei tanti affreschi di Palazzo La Marmora potrebbe essere anche molto degradato e quindi presentare una condizione di rischio grave dal punto di vista quantitativo ma non urgente se per esempio le condizioni di protezione alle coperture c'è sono già state risolte per contro potrebbe essere invece urgente un intervento sulla copertura nel momento in cui ci si accorge che ci sia una piccola infiltrazione d'acqua che potrebbe far diventare da grave un degrado che sta nella superficie all'interno in sostanza allora ecco ragionando sui concetti di gravità e urgenza è possibile programmare ed è fondamentale soprattutto per chi ha la gestione di questi edifici che sia il singolo proprietario che sia un insieme di beni riuscire a fare la valutazione del rischio su un sistema di beni e poi valutare le condizioni di gravità e urgenza sia all'interno del sistema di beni sia all'interno del singolo edificio consente di programmare appunto